Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Rimangono 18 giorni. E' un po' l'italiano dove sto sapendo. Poi mi dici ho finito a me caso non c'è. No. Poi c'è caso con uno stream che facciamo. Io sono fietto oscuro. E fietto nello scuro. Mia madre mi bullizza. Troppo lo fai questa cazzoa. Siamo matti? Direi proprio così. Sì? Perché siamo matti? Perché forse ci amiamo, facciamo. Allora, quindi voi è matto. Eh sì. Quando? Matto per l'amore. O eccolo si è acceso? Sì. Sì. E per questo serve. Ma non farlo bruciare la stronzata. Ma perché sbruciare la resistenza. Saci, ok? Sì. Ah. Te ti f***** con l'alert, ti? Cornuto? Te ti fregata? Ti ho fregata? Ti ho fregata? Ti ho fregata? quando vado a cagare non vi preoccupare metto un po' di musica come faccio sempre mi è cazzato come faccio sempre come faccio sempre no, una cosa ah io due cose ma vabbè fregata vabbè, siamo in brava gioco, film, che volete dire? alexa accendi pioggia ok ok alexa accendi piccati i giochi belli vuotate mezz'ora ma vi schiaffate non vi peppa pigmo che chi vi è morto ok? ma non ha già morte Gesù Cristo porco Dio e scusami che stai là ma non ha già marron ma vi subito non è sto gioco e papà possiamo siamo conosciuti su Badoo poi siamo trasferiti su messager poi su Instagram no poi su Skype fatevi e poi è messo enna ma che marido che vuoi? su io che vanno a cazzò su io che vanno a cazzò ciao è un brato è un brato sta partendo la bucconofiera niente ragazzi non si sveglia ma si scivola anche io con le calze ma si scivola ma anche di là ma anche si scivola è un brato è un brato c'è nessuno vedi che non c'è nessuno oh cazzo si è aperta la porta è ok è un brato